14 luglio 1555 una data spartiacque per la storia degli ebrei di roma in questo giorno papa paolo iv emana la bolla cum nimis absurdum poiché è oltremodo assurdo in lingua latina è l'inizio della chiusura nel ghetto e di una serie di limitazioni la bolla cum nimis absurdum avviene dopo una serie di passaggi di carattere geopolitico culturale economico internazionale significativo se non scordiamoci che nel 1555 siamo in pieno concilio di trento quindi siamo a fronte della riforma protestante e della risposta in termini contro riforma o riforma cattolica per cui questo clima non è estraneo all'istituzione del ghetto tutt'altro e non scordiamoci che qualche tempo prima negli anni inizio degli anni 40 del sedicesimo secolo c'è l'istituzione santo ufficio la nascita della casa dei catecumeni nel 1553 il robo del talmud per cui abbiamo una serie di passaggi di indicatori che ci dicono che le cose stavano cambiando rispetto a quella che era la condizione degli ebrei a roma fra fine del 400 e gli inizi del 500 ovvero nel periodo dell'arrivo degli ebrei sefarditi il ghetto era molto diverso dal quartiere ebraico di oggi era luogo di segregazione e miseria strade anguste precarie condizioni igienico sanitarie spazi ristretti tante vessazioni frequenti poi gli allagamenti per gli straripamenti del tevere tanto che la via principale era proprio chiamata via della fiumara gli argini non esistevano e le costruzioni erano tutte a livello del fiume case magazzini botteghe strade finivano così frequentemente inondate quindi l'istituzione del ghetto rientra all'interno di questo scenario ed è un passo indietro rispetto a quella che la dimensione degli ebrei a roma nello stato pontificio in generale rispetto perché perdono una serie di diritti la libertà di movimento sul territorio rispetto a prima la possibilità di agire all'interno di vari settori dell'economia cosa che non è più possibile tante restrizioni soprattutto per impedire ogni tipo di relazione tra ebrei e cristiani ma gli ebrei di roma riescono comunque a dare continuità alla loro presenza tanto che proprio di questo periodo restano numerose testimonianze conservate nel museo ebraico all'interno del ghetto c'era un'unica sinagoga questo sempre secondo la bolla papale che racchiudeva però al suo interno in questo unico edificio cinque cinque sinagoge cinque aule di culto con riti leggermente diversi l'uno dall'altro e quindi da queste dal patrimonio di queste cinque sinagoge sono pervenuti ai nostri giorni tutti gli arredi cerimoniali in tessuto preziosi argenti ricchissimi realizzati dai maggiori argentieri dell'epoca che sono costituiscono proprio un patrimonio storico culturale artistico di assoluto importanza a livello mondiale la loro fede la fede degli ebrei appunto verso la loro religione fu la forza che li diciamo li aiutò a mantenere una dignità una dignità che veniva appunto manifestata all'interno delle loro sinagoge era l'unico luogo in cui era permesso esibire un fasto un tavolo interattivo permette anche di navigare all'interno delle vie dell'antico ghetto strade ed edifici in cui sono stati costretti gli ebrei romani per 315 anni fino alla presa di roma del 20 settembre 1870 inizio di una nuova storia a a a a a